La forbice tra i 6.000 permessi che vengono rilasciati dal comune per entrare nella ZTL e i 400-500 posti che ci sono per queste persone fa capire che non sono 50 posti in più o in meno come il vice sindaco ha accennato. Non si placa la cherel tra il comitato parcheggi centro storico ed il vice sindaco ed assessore alla mobilità e traffico Gianfrancesco Gamurrini che dopo la stoccata del comitato non ha fatto attendere la sua replica. Non è vero che non mi sto occupando dei problemi, ci siamo scambiati delle mail prima di Natale con la presidente del comitato, ci siamo visti a novembre, è vero, e loro volevano un appuntamento per dicembre. Ovviamente la mia risposta è stata che li avrei ricevuti solo e unicamente nel momento in cui sarei stato nelle condizioni di poter dare delle risposte compiute. A dicembre io ho annunciato che comunque a gennaio avrei predisposto la realizzazione di altri 50 parcheggi aggiuntivi riservati ai residenti della ZTL. Teniamo conto che sono 248 i parcheggi nella ZTL riservati ai residenti e quindi c'è un aumento del 20%. La presidente mi risponde il 24 di dicembre dicendo che è contenta delle mie iniziative e siamo rimasti che ci saremmo sentiti dopo la Befana. Dopo la Befana mi vedo arrivare un comunicato stampa abbastanza pesante. Nel futuro comunque non finirà qui la politica per i residenti e coloro che hanno necessità di accedere alla ZTL. Infatti sto predisponendo un allargamento dei parcheggi all'interno della Cadorna, nell'area riservata ai residenti, appunto togliendo le piante che sono nella parte terminale di questo parcheggio e quindi verranno ampliati ulteriori 25-30 posti auto. E poi andiamo avanti con il tempo, stiamo trattando per la riacquisizione dell'area del parcheggio Bardaccio. Non sappiamo se riusciremo a arrivare in fondo, però se l'amministrazione dovesse rientrare in possesso di quel parcheggio sicuramente ci saranno ulteriori risposte ai residenti.